Vai! Pesci, notte prima degli esami, notte di buono... Partiamo da quanti anni hai? 25 Ecco, come mai ti piace vendirti? Ma... È un cantante che ha una certa età, ha una certa carriera alle spalle Sì, mi è sempre piaciuto, è un cantante che comunque mi emoziona tanto e quindi mi piace seguirlo Qual è il segreto di questo cantante italiano? Il segreto è che noi siamo vecchi e lui è vecchio come noi, alla fine la musica che sentiamo Si ricorda, poi il sottoscenno del peso è stato l'album della nostra infanzia Io l'ascoltavo da ragazzina, mi piacciono molto le vecchie ma anche le sue nuove canzoni, è sempre attuale Perché le sue canzoni portano la storia di tutti i giovani, anche di noi che non siamo più giovani Quindi è una persona eccezionale per me almeno Come mai questo cantante italiano dopo tanti anni... È sempre sulla breccia È sempre sulla breccia, invece tanti altri cantanti spariscono diciamo nel giro di qualche anno È perché non hanno la stessa musica, lo stesso modo di raccontarsi e di rapportarsi soprattutto alle persone Sabato 2 marzo sono a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, per la data del tour di Antonello Venditti Antonello Venditti è un cantautore italiano, nella sua lunga carriera iniziata negli anni 70 ha firmato successi come Notte prima degli esami, Buona Domenica, Sotto il segno dei pesci e tante altre ancora Chi è che è fan di Venditti qua? Un euro due, guarda Lei è fan di Venditti, da quanti anni? Da sempre Quando hai iniziato a ascoltarlo? Ma penso da quando... non mi ricordo più, sinceramente non me lo ricordo, è da tanto e lo ascolto sempre Ma perché adesso invece non ci sono dei cantanti come Venditti che fanno canzoni che durano negli anni e che affascinano la tante generazioni? Questa è una bella domanda, ci siamo chiamati anche noi Siamo qua perché intanto ha delle canzoni che sono sempre belle anche dopo 30-40 anni e delle canzoni che ti danno sempre delle emozioni Sono canzoni che comunque a distanza di anni sono sempre... sono rimaste Sono sempre belle, sono sempre attuali e ti danno sempre queste forti emozioni Qual è il punto di forza di Venditti? Della musica di Venditti Ma secondo me proprio è... non so, non saprei neanche come definirlo È romano, cioè l'italiano... non so, adesso praticamente ci sono anche canzoni che da una all'altra non te le ricordi più Invece le sue canzoni, anche se non rimangono dentro e da tanti anni Come mai vi piace Venditti? Ci sono sempre piaciute le sue canzoni e accompagno mia sorella, gli ho fatto questo regalo per il suo compleanno Che canzoni ha fatto, famose? Sottosinno di Pesci Qual è il segreto di successo di questo cantante italiano? La bella voce Per te? Anche Siamo fan di Venditti da sempre, io l'ho già visto in un altro concerto, sempre a Bologna e ci piace molto Venditti ha fatto delle canzoni che sono ancora attuali Sì, assolutamente Ecco, invece oggi ci sono tanti cantanti che fanno una canzone e poi spariscono Perché c'è questa differenza? Beh, perché secondo me chi nasce comunque negli anni 70 ha fatto una gavetta molto, secondo me, più pesante, più costruttiva rispetto ad oggi Come mai da tanti anni lui è sulla scena musicale italiana? Perché coinvolge, coinvolge, semplicemente coinvolgente, poi ha un modo di cantare che ti infonde calma, tranquillità, serenità, di tutto e di più A casa ho un sacco di CD, di DVD e di 45 giri, penso che possano bastare Ma perché diciamo che è uno scrittore che sa ancora far emozionare con le sue canzoni d'amore, quindi secondo me anche i giovani piace La canzone preferita? Eh! Di tutte quelle che ha fatto? Di tutte quelle che ha fatto, dunque, a me piace molto Lily Ma forse ha i testi delle sue canzoni così particolari, struggenti, romantiche, bellissime Lo consiglierebbe ai giovani? Sì, sicuramente sì, dovrebbero ascoltarlo perché dice delle cose vere, almeno così la vedo io Quando hai iniziato ad ascoltare Venditti? Beh, parliamo sicuramente di 40 anni fa Quando avevamo 20 anni Siete giovani quindi? Sì, esatto Ma con i dischi, per radio? No, no, beh, sì, sentiva, ascoltava per radio e più prendevamo i dischi Anche le cassette Cioè, adesso i giovani ascoltano la musica su internet, con YouTube Voi come vi siete avvicinati, tipo, a questi cantanti? No, beh, ci siamo avvicinati con le cassette Perché stiamo parlando di 40 anni fa, eh Non c'erano tutte queste Con i mangianastri Con la radio, ascoltando la radio Quello che c'era Comunque, a distanza di tanti anni però Queste musiche sono rimaste Esatto, alla grande Lei lo ascolta da molti anni? Sì, da quando avevo 15 Sì, una bellezza di 30 anni quasi Che tipo di cantante hai Venditti? Per me è veramente speciale Perché lo conosco da quando ero una ragazzina Diciamo, canzoni Storiche Storiche, d'amore Insomma, diciamo che Fa sognare Cantautore, sì, veramente Sì, esattamente Data bolognese del tour di Venditti Ecco, qual è il punto di forza Di questo cantautore italiano? Eh, canzoni famose Tante bellissime canzoni Che tante persone della mia età Conoscono tutto in memoria E bello, sì, ti tocca al cuore Belle canzoni Esatto Perché continua a piacere Venditti? Perché sicuramente fa centro E arriva nel cuore delle persone E come dice mia madre Appunto è un poeta È un poeta che tutte le volte Comunque che canta E che dè sul palco Riesce ad esprimere delle emozioni Venditti ha firmato tanti successi Nella sua carriera Perché? Perché ancora oggi Ci sono tante persone che lo ascoltano E vanno sui concerti Credo che abbia saputo anche rinnovarsi È una persona che ha comunque Utilizzato delle tematiche sempre nuove È sempre stato vicino ai giovani Trattando anche droga Oppure tutta una serie di situazioni Che non venivano spesso cantate In un panorama di concerti italiani In cui c'erano soltanto delle gran storie d'amore Oppure le solite canzonette all'italiana Ha saputo trattare delle tematiche Secondo me in cui i giovani sono stati molto vicini E si è anche rinnovato come musica Venditti, perché le piace? Venditti Per le canzoni E il significato delle sue canzoni Perché in queste canzoni Parla di tanti temi Ha ancora successo C'è un pubblico ancora che lo segue Perché i temi che tratta Sono abbastanza reali È una canzone preferita di Venditti? Tra le tante che ha fatto È famosa Bomba non bomba C'è una canzone in particolare? Oh, ce ne sono tante Amici mai Altamarea Tante Fa sognare Canzoni che fa sognare anche per riflettere Sì Beh, unica e molto bella Poi ce ne sono anche dei tempi un po' più indietro Anni 70 È il mio periodo Cantante storico italiano? Sì, esatto Cazzone preferita? Detto da quella che ha fatto? Io la so Miraggi Ciao